5 segreti su Geralt di The Witcher Nei videogiochi Geralt ha una vistosa cicatrice sul volto. Questo segno distintivo non esiste nei libri e nella serie TV, in quanto si tratta di un'idea di CD Projekt Red. Geralt di Rivia è uno degli appellativi più comuni per riferirsi al personaggio, tuttavia Geralt non è nativo di Rivia, bensì di Cadwen. Da ragazzo ha imparato il dialetto locale ed ha cambiato nome in Geralt Roger Eric Duot Belgaard. Lo strigo ha utilizzato il suo primo medaglione come esca per attirare un mezzo-elfo, perdendolo in battaglia. Il medaglione del lupo gli è stato donato da Ciri. In The Witcher 3, Geralt ammette di non essere troppo lontano dal compiere 100 anni, dunque possiamo immaginare il nostro eroe come un arzillo ultra novantenne. La prova delle erbe, che richiedeva di bere una pozione con una miscela segreta, ha causato a Geralt la perdita dei pigmenti dei capelli, diventati per questo tutti bianchi.